Un appartamento delle IACP abitato da una famiglia, le cui figlie una alla volta hanno abbandonato la casa perché si sono sposate, rimane in casa una delle sorelle che a quanto risulta sembra che abbia anche dei problemi psichici. Questa donna viene chiesta da qualche amico di essere ospitato per un breve periodo. La donna accetta, ospita questo nucleo familiare che dopo qualche tempo che cosa fa? A quanto ci è stato detto approfittano di questa donna che ha problemi psichici, le danno del danaro e la mettono ad abitare in una casupola in un paese vicinore. Teniamo una sorella che purtroppo è una portatoria di handicap, è malata, non sta bene nemmeno mentalmente, in continuazione abbiamo appigliato l'ospitale perché viene ricoverata in continuazione a Sarno, teniamo tutte le carte dichiarate, teniamo un diabete, malato mentale, è proprio fisicamente che non sta bene. Questa sorella è abitata in questa casa? Da 45 anni hanno chiesto a una sorella di questa abusiva che sta andando a casa di mio padre che questa signora era un'amica, la doveva alloggiare perché erano i miei amici, ma invece i miei amici erano sore e sore. Per di quando hanno morto i genitori che sta abusivi e la sorella sta abusivamente nel palazzino di Pascia e non basta questo, ho fatto piazzare la sorella qua. Mio padre, da notto figlio, non ho, mia sorella ha diritto a avere questa casa perché mio padre c'è rimasto a Sarno. Per di quando mi sono venuto per due mesi agli ACP, hanno fatto i miei amici, i miei amici hanno mandato a cattopè, per di quando hanno dato la colpa al comune, al sindaco, ma c'è rivolta al sindaco, ma sono che non ho mai avuto una carta. Io voglio sapere con quale titolo gli ACP che mi sono riferito, mi hanno fatto denuncia che queste femmine stanno rindendo a questa casa nostra.